Signor Dato Cristo, buongiorno carissimi i carissimi. Oggi è la solennità della Santissima Trinità. Vi invio ora un cantico scritto da Don Divo Barsotti. Io mi sono svegliato questa mattina, mi è iniziato subito a cantarlo dentro di me, un cantico che conosco da tempo, quando abbiamo avuto modo di prendere contatto con la spiritualità di Don Divo Barsotti, è legato al sogno che Don Divo nel 1945 ebbe di un monaco, che poi dieci anni dopo, arrivando alla casa dedicata poi a San Sergio di Radonez, ebbe quella notte e sentì ecco questo canto che lui scrisse immediatamente appena svegliato, e si sente proprio all'inizio dei passi, aprirsi ecco un cancello. Dieci anni dopo fu identificato proprio da un Sergio, mentre cercava una sede per la sua comunità, ecco trovò, ecco questo, capitato avanti, proprio a questo cancello con un grande eglicide, come aveva visto con il sogno, e questo monaco che sarà poi il San Sergio di Radonez, e così può diventare questo canto una bella preghiera ecco del cuore, la condivido con voi volentieri, carissimi. Pace e bene. Pace e bene. Pace e bene. Dio è il Padre, Dio è il Figlio, Dio lo Spirito Santo. Dio è il Padre, Dio è il Figlio, Dio lo Spirito Santo. Inmenso è il Padre, Dio è il Figlio, Dio è il Figlio, indir Hiç, bene ieri sono lo Spirito Santo. Uno il Padre, uno il Figlio, uno lo Spirito Santo. Nella Trinità indivisibile ogni persona divina. E' l'amore, e' l'amore, e' l'amore ciascuna, e' la divinità, la divinità unica immensa, tutta l'unità e tutto trascende. Lo Spirito Santo, il tuo figlio, la Cristo se fonde. E' lo Spirito Santo, e' l'amore, e' l'amore, e' l'amore, e' l'amore. Nella Trinità indivisibile ogni persona e la vera l'amore, e' l'amore. Il suo figlio è il suo figlio, il suo figlio è il suo figlio, illuminato dallo Spirito, battezzato nel suono, chiunque tu sia, monaco, vergine, sancerdote, Dio, sei la luce della divinità, tu sei Dio, tu sei Dio, Dio nel Padre e nel Filme, nello Spirito San Suo, tu sei Dio, Dio nel Padre e nel Filme, Grazie a tutti. Grazie a tutti.